Glorio, 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 glorio. Con gran legrezza e a vedir ince la verità, con gran encrescioso. Rueite te le chasse de fassa col mie augurie de Bon Nadal ad Ucchinch. Sionchio te la gizia arcipretala de fiera. E sonchio con una bella neva che impienisce al chiar de speranza. Le comparì la grazia del Signore Dio. E questa grazia l'ha un vis della città di Davide. Le nasce per noi un Salvatore, che è del Cristo Signore. Trova ridembez fatite te fasse, te nascional. Questa nel Nadal. Dante, gli uomini, haia resognato e creato immagini umane di Dio. Dio, mediamo, haia resognato di disvalire la vita agli uomini. Ma adesso le so seduzze che di più. Dio, le comparì. Quando siamo ciò, le vengono fuori dalla gran lume o l'acestasea. E il mediamo le vengono antes di noi. Questa è la gran leggezza del Nadal. Dio le comparì. Non è più di mona idea. Non è di mon valc da se figurare. Ma a lui le comparì. Le persone che non le è più buone deve conoscere di ente la fe. E le si domana se l'ultima potenza che ten sul mondo sia dal buon che la buona o se il mal non si è altrettanto potente. L'Apostolo Paolo ci scriveva a Tito così. Le comparì la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini. Questa è la neva sicurezza che dà sconsolazione e che ne vengono a portare testo Nadal. E il mediamo le nasce per noi. Dio le comparì. Nessuna invenzione da man dell'uomo fosse ruata a tant. A Bethlehem non è nessuna illusione, nessuna gàbola, nessuna falsità. Lo garantis nacional e nacròs. E Dio le o la che non volesse mai essere. De modo Dio poteva trovare questa strada. Dio te chiesti di almosa sovis, non di un giudice cattivo, ma traersi la os e il pianzo di un bezzo. Buon degedire al chiar di ogni famiglia fa sana. Te vuoi bene. Te perdone. Te stime. Tu sei importante per me. Te dai in do la vita. Bisogna che il Signore Dio ne dice questo piccolo bezzo. È il bezzetto di te. È il bezzetto di te. Le comparì la bontà dei Dio e il suo amore per gli uomini. Del bezzetto della stalla di Bethlehem, seppell per la dir cosita, tocciar, die e gefarnaiccia. Sulla cianal che era anter al boelazen, San Francesco facea celebrar la Santissima Eucaristia. Sola questa cianal, San Francesco, la è fatta su un utar. O là che notano gli animali a ea mangiare il fegno, adesso gli uomini potrebbero capire per la salvezza dell'anima e del corpo la cianal dell'agnello senza macchia di Gesù Cristo. E allora, se vogliono trovare Dio, comparì dei schimbetti, ebbene non è assai se ti dice fare augure. L'è importante riconoscere anche che il bezzetto di questo pan vivo è venuto dal cielo e che ne intesa e ne dà forza. Gesù l'ha attaccato a Bethlehem a variare su nostre strade, su nostre ciasi. E allora, con tutto il cuore, Gesù l'ha attaccato, deve il Pai, Signore Dio, per il vostro amore. Adesso, con molto di affetto e di riconoscenza, Rui, te le ciasi e fassi un buon Natale. Sola il tutto a chi che fa spiofadia, Ai mali, Alla gente d'età, Ai piccoli e ai giorni, Buon Natale! E a Ducchkinci, Dacchio, Mie braccia col, E la mia orazione. Buon Natale a Ducchkinci! Gloria, 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 Grazie a tutti.